ringrazio tutti voi dell'organizzazione per aver scelto il mio nome, prendo simpatia, a me fa un po' strano perché io non passo per una persona estremamente simpatica qui stai tornando e qui mi riporti indietro nel tempo anche se lui è sempre nella nostra testa e nei nostri cuori era quello che diceva sempre Pasquale Pacilio quando saliva su questo palco e proprio quest'oggi ricorre il suo terzo anniversario di morte quindi vorrei chiedere un grande applauso per Pasquale Pacilio un applauso e anche un sorriso per Pasquale perché a noi è piaciuto ricordarlo così anche a Rete 8 abbiamo fatto un servizio mettendo proprio i suoi lati sorridenti sui lati scansonati, era un giornalista ma era anche un intrattenitore eccellente ed era un uomo naturale credo di aver imparato questo da lui, ad essere quello che sono senza nascondersi dietro chissà quali impalcature siamo così, ci presentiamo a voi così e speriamo che ci appreziate Pasquale è nel nostro cuore e so che voi l'avete premiato tante volte tantissime volte doppia emozione tantissime, veramente molte grazie